In piena fase 2 sono i protocolli e le regole a scandire la vita degli italiani, credenti compresi. Così, di fronte a questo nuovo elenco di restrizioni, si rimodula anche la vita delle chiese, delle sue comunità, delle minoranze religiose, come quella evangelica in Italia. Insomma, chiusa una fase, la quarantena, se ne apre un'altra, la convivenza con il virus. Ma una domanda resta. A quali libertà siamo disposti a rinunciare in nome di valori più grandi, come il diritto alla salute e il bene comune? Difesa dei diritti o tutela della salute? Libertà individuali e bene comune sono in contraposizione tra loro? Ne parliamo con il giurista Gustavo Zagrebelsky in questa puntata di Protestantesimo, in onda su Rai 2 domenica 31 maggio, poco dopo le 8 del mattino e successive repliche. Continuate a seguirci su Facebook, Twitter e RaiPlay dove potrete vedere questa e tutte le altre puntate. Grazie a tutti.